Grazie. Grazie a tutti. Troppo viva per dare una migliore rappresentazione delle persone, mentre come vedrete quella del nostro altro facilitatore Angelo Nera è molto più vivace e più colorata. A parte le considerazioni di carattere tecnico, vi rinnovo il benvenuto a questa lezione 05 che riguarda da un lato i suggerimenti che vi fornisce Google Chrome, dall'altro tutta una serie di attività come i download e la gestione degli stessi. Vi dirò che io sono passato da Internet Explorer a Chrome quando Internet Explorer era nella sua versione 6. E quando sono passato a Chrome sono rimasto sorpreso da quella specie di evento magico che era la lettura che Chrome faceva del mio pensiero. Vale a dire, quando nell'omnibox andavo a scrivere l'urla, l'indirizzo di un determinato sito, bastava che scrivessi 1, 2, 3, 4 caratteri e immediatamente Chrome provvedeva a completare quella che si dice la stringa di caratteri, per cui non dovevo fare altro che premere il tasto di invio per andare immediatamente in quel sito. Ora, adesso non mi sorprendo più delle magie di Chrome, ma forse per qualcuno di voi che non è ancora abituato a convivere con lo strumento di cui stiamo parlando in questo momento, può risultare ancora sorprendente. Dopodiché nella lezione verranno trattati i download, prima di tutto la cronologia e troverete come è importante sapere dove cercare la cronologia e come muoversi nell'ambito della cronologia. Perché voi sono certo fatte delle attività di caratteri didattico, fatte delle ricerche e a un certo punto vi interessa sapere quando, dove avete cercato un determinato argomento. Quindi la cronologia vi permette di poter andare a colpo sicuro a rivedere un percorso di studio o un'attività che avete fatto il giorno prima o magari negli altri giorni che precedono, fino a 90 giorni precedenti. E poi lo stesso discorso vale per i download, perché so che voi provvedete a scaricare file, documenti, eccetera, che poi vi servono per confezionare i vostri testi, i documenti che andrete a utilizzare a voi stessi o sottoporre ai vostri studenti. Detto questo, passo immediatamente il controllo all'altro facilitatore, Angelo Nera, che in dettaglio provvederà a esaminare assieme a voi i punti salienti del testo della lezione che vi è stato messo a disposizione ieri e che immagino voi avrete già provveduto a studiare così come richiede il modello della Flipped Classroom. Passo quindi su Angelo Nera, che saluto. Ciao Angelo. Buonasera, benvenuti a tutti alla quinta lezione del percorso Google Chrome. La lezione di oggi vertirà sui seguenti argomenti. Prima di tutto però condivido la mia schermata, la mia lavagna diciamo. Ecco, vedete la lezione numero 5. Dunque, gli argomenti di oggi sono i suggerimenti di Chrome, la cronologia, della quale abbiamo già parlato anche in precedenza, però approfondiamo sempre di più, come cancellare i dati di navigazione, i download, la modifica del percorso dei download e la cancellazione della cronologia dei download. Come ben sapete, Chrome, che è arrivato alla versione 40, è caratterizzato dalla velocità con la quale si naviga nel web e con la quale appunto compaiono a video le pagine che vengono selezionate. Aspettate che apro anche un altro navigatore che mi serve. Perfetto, eccolo qua. Benissimo, come voi sapete dall'Omnibox, che è questa che vedete in alto, che adesso io evidenzo in blu, è possibile ricercare, come ho sempre detto, indirizzi web oppure dei semplici testi. Per esempio io scrivo Didasca e vengono fuori tutti i siti di Didasca sotto. Benissimo, e mentre si digita nell'Omnibox, ad esempio io adesso digito Did, vedete che escono sotto scritti in verde, vedete questi verdi, che sono i cosiddetti suggerimenti che Chrome ci dà, che si basano sui siti che abbiamo visitato in passato, cioè si basano sulle azioni che abbiamo già compiuto precedentemente con questo navigatore. Devo dire che queste preferenze non vengono cancellate quando noi cancelleremo la cronologia, perché è una domanda che è stata fatta nel forum più di una volta e la risposta ve l'ho già data adesso. Andiamo avanti. La cronologia quindi è praticamente l'insieme di tutte le pagine web visitate negli ultimi 90 giorni dall'utente. Ma non solo, nella cronologia vengono anche memorizzati tutti i file che vengono aperti con Chrome, tutti i documenti di Google Drive che vengono aperti e tutti i file presenti nel nostro computer che abbiamo provveduto ad aprire con il browser, ad esempio dei file HTML, ma anche delle immagini si possono aprire con il browser. Nella scheda di cronologia non vengono memorizzate le pagine con dei siti web protetti e le pagine che sono state visitate in modalità in incognito e naturalmente quelle eliminate dalla cronologia di navigazione. Per visualizzare la nostra cronologia andiamo sempre nel nostro menu Chrome, che è quel triangolino, attiviamo subito la lente, che è così, triangolino, è questo bottone formato da tre linee orizzontali, bottone Chrome, clicchiamo, apriamo, scendiamo e andiamo, cerchiamo, 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 ecco c'è la voce apposita cronologia e entriamo nella cronologia di navigazione. Adesso qui la vedete molto ingrandita, prima di procedere vi faccio vedere, ecco questa è l'immagine che c'è nella vostra lezione, vedete che la scheda in alto sulla linguetta è denominata cronologia, perché non è altro che una scheda, e qui sotto vedete tutte le pagine web visitate, che sono state visitate dall'utente, e questo campo rettangolare giallo non è altro che il campo per effettuare delle ricerche nella cronologia. In un altro modo per giungere nella cronologia, perché ci sono più modi per arrivare alla cronologia, o si va sulla voce cronologia, oppure si va nel menu impostazioni, e qua sulla sinistra vedete, la prima voce è proprio cronologia, clicco e torno su cronologia. Un altro metodo addirittura è altri strumenti e si può andare in cancella dati di navigazione, che si giunge sempre nella fase successiva della cronologia, già alla cancellazione. Nella scheda cronologia, quindi, adesso torniamo nella nostra, andiamo a quella più semplice, col comando più semplice, vediamo appunto tutte le pagine web visitate, e possiamo, se noi vogliamo tornare a dei siti web precedentemente visti, basta cliccare su uno di questi link, e immediatamente vi verrà riproposto la pagina web, la pagina web che avete visto in precedenza. Per cancellare i dati di navigazione, avete già visto che qui c'è questo bel bottone, cancella dati di navigazione, cliccando il quale, esce questo menu, nel quale si può selezionare, anzi vi faccio vedere meglio prima un'altra cosa, ok, ecco, questo è il menu che abbiamo visto prima, questo qua sotto, cancella dati di navigazione, io adesso ingrandisco qua, a sinistra è riprodotto la figura della lezione, dove ci sono le voci, cronologia di navigazione, cronologia del download, i cookie, immagini, password, eccetera, e proprio nella lezione è stata spiegata bene, voce per voce, che cos'è la cronologia, cos'è la cronologia dei download, i cookies, le password, i dati app in hosting, eccetera, è spiegato bene, di modo che l'utente può selezionare l'intervallo di tempo, innanzitutto l'intervallo di tempo preferito, io qui ho selezionato tutto, però si può scegliere l'ultima ora, l'ultimo giorno, l'ultima settimana, l'ultime quattro settimane, e poi selezionare cosa si vuole cancellare, ad esempio uno, una persona, dice io voglio cancellare solo le password, allora si disattiva tutto il resto, e si cancellano solo, e cliccando cancella dati di navigazione, si cancellano solo le password, annulliamo, e andiamo avanti, naturalmente, ecco una cosa che devo dire, nella cronologia di navigazione, si possono anche, selezionando, eliminare singolarmente, vedete qui il bottone, rimuovi gli elementi selezionati, adesso io tolgo, andiamo avanti, per quanto riguarda, lo scaricamento, per scaricare un file, in genere si scarica, non so, dei file html, e qui riproduco, proprio la figura, della lezione, nel lato in cui si avvia lo scaricamento, sulla sinistra, c'è una rotella, vediamo se la ingrandisco ancora un po' di più, si attiva una rotella, un cerchio che si riempia, mano a mano, progressivamente, finché diventa tutto verde, e poi scompare, quando il download è terminato, vedete, ruota che colorandosi di verde, evidenzia lo stato di avanzamento, del download, e questa infatti, è la barra dei download, che si trova al piede, sul piede, della finestra di Chrome, parliamo ora, della modificazione, del percorso dei download, come sapete, in Windows, e così anche per Chrome, di default, andiamo subito a vedere, nelle impostazioni, di default, la cartella predefinita, è sempre una cartella di download, che però non si trova proprio subito, e bisogna entrare all'interno, di un'altra cartella, per trovarla, e chi come me, preferisce scaricare tutto sul desktop, e vederselo subito lì davanti, non deve fare altro, che siamo entrati, quindi nelle impostazioni, andiamo, mostra impostazioni avanzate, clicchiamo, scendiamo, e ecco, qui io avevo già modificato, desktop, qui appunto, all'altezza della sezione, download, si può modificare il percorso, non è necessario intervenire all'interno, ma basta cliccare il tasto modifica, e scegliete la cartella, dove preferite, scaricare i vostri file, la vostra musica, eccetera, se non fate nulla, quella predefinita, è la cartella di download, come ho già detto, Per quanto riguarda i download, c'è la possibilità, sì, come abbiamo già detto prima, anche nell'interno della cronologia, c'è un'opzione che permette di cancellare tutti i download, ma se uno vuole intervenire solo sui download, basta andare sul nostro menu di Chrome, sempre, andare sotto la voce cronologia, che si chiama proprio download, e vedrete, ecco qui ce ne sono pochi, perché l'ho appena scaricata poco tempo fa, ci sono i download che avete fatto, che potrebbero risultare utili, se una persona vuole rifare un download che ha perso, ad esempio, e per cancellarli, per cancellarli, basta, da usare la lente, andare in alto a destra, in alto a destra, e cliccare su questo link, cancella tutto, ecco, come vedete, la cronologia di download è sparita, ecco, io con questo ho finito, passo alla regia, la linea, no, si, prendo la, ecco, siamo passati sulla, videocamera che inquadra il mio volto, ti ringrazio Angelo, per la presentazione che hai fatto, molto bella come sempre, e devo proprio esprimere soddisfazione sul lavoro del testo delle lezioni, che, devo dire, rappresenta la sintesi del contributo di oltre 100 persone, che in tre anni a questa parte hanno via via partecipato ai nostri percorsi, fornendo suggerimenti, correggendo eventualmente errori, e poi distillando l'esperienza e il sapere maturato, diciamo, praticamente in centinaia di scuole italiane, questo per dare a Cesare quel che è di Cesare, credo quindi che voi tutti abbiate la possibilità di apprezzare, da un lato il lavoro che è stato fatto a monte, da parte di chi vi ha proceduto, il lavoro che viene fatto attualmente dai facilitatori, e la metodologia che noi usiamo, quella cioè di farvi vedere, addirittura quasi quasi toccare con mano, i documenti che noi visualizziamo, e addirittura, diciamo, ingrandiamo, affinché tutti abbiate la possibilità di meglio comprendere, quanto andiamo dicendo. Ripeto, siete invitati a leggere, attentamente sempre il testo, e poi partecipare alle nostre lezioni, rispondere poi ai quesiti del test, infine a partecipare, a controllare la correttezza delle risposte che avete dato, andando direttamente nel forum, e partecipare alla discussione che avvengono nel forum, compreso i contributi che vengono forniti da parte di chi anima quel tipo di attività. Siamo arrivati al momento delle domande e delle risposte, ecco qui la slide che introduce appunto questo segmento della nostra lezione, credo che siano state evidenziate delle domande che avete fatto direttamente nella Unified Chat, se la regia me le mostra e cerco se mi è possibile di darvi subito una risposta. Ho visto che vi è piaciuta la musica, ragione per cui è più al termine della nostra lezione, e diciamo vi verrà mostrato da parte dei nostri collaboratori, l'indirizzo di YouTube al quale voi potete fare riferimento per replicare la musica che vi è stata proposta. Leggo qui una domanda di Maria Teresa Salve, come si svolgerà l'esame finale? Si basta rispondere a una batteria di 20 domande, avrete tempo, 30 minuti. Il testo che vi vedrà sottoposto è uguale, identico ai testi abbreviati a 5 domande che voi vi vedete per 12 volte di seguito. Non c'è nessuna difficoltà, nessun problema. Seconda, c'è un'altra domanda che vedo e cerco di dare risposta. Esistono altri percorsi? Certo che esistono altri percorsi. Non ve ne abbiamo mai parlato per evitare di spaventarvi. Comunque volevo dirvi che il percorso che stiamo seguendo in questo momento termina con la lezione numero 12, ma a quella farà seguito un'altra di perfezionamento che noi abbiamo inizialmente chiamato percorso avanzato che in realtà provvederemo a rinominare come percorso Google Search perché, come voi sapete, nella barra Omnibox si possono fare interrogazioni esattamente come si fanno nella landing page di Google e quindi sono attività di tipo avanzato che noi abbiamo messo assieme e sviluppato molto bene nella parte della lezione avanzata. Sono un percorso di sei lezioni che comincerà il 6 luglio e si concluderà naturalmente entro il mese di luglio con un test finale appunto verso la fine del mese. Credo che non ci siano altre domande e allora approfitto per fare un esperimento con voi e vogliamo mostrarvi come si può interagire con i facilitatori anche in voce e video e questo presuppone da parte nostra l'invio a ciascuno di voi di un invito a partecipare al nostro evento. Noi adesso chiedo alla regia di spedire ad alcuni di voi un invito a partecipare e voi probabilmente lo vedrete apparire questo invito sul vostro schermo è scritto in inglese, ahimè basta però cliccare in fondo il bottone Accept e poi con santa pazienza passare attraverso diciamo un percorso a ostacoli tipico dei Google Hangout finalizzati alla tutela della privacy. L'importante è che giù in fondo all'avviso che vi manda Google Hangout c'è o da cliccare su un quadratino per accettare. Ora, io ho provveduto a far spedire degli inviti aspetto che arrivino nel frattempo rispondo a un'altra domanda c'è la possibilità di riprendere le lezioni che ahimè sono andate persa? Assolutamente sì nel sito di Daspedia sono elencate via via progressivamente tutte le lezioni che noi abbiamo fatto e in funzione a ciascuna lezione cliccando quella potete vedere la registrazione della lezione 01, 02, 03, 04 potete addirittura provvedere anche a lasciare dei commenti come se voi foste presenti in quel momento anche se in realtà vi unite alla lezione diciamo indifferita un giorno dopo, due giorni dopo fino a un anno dopo noi vediamo sempre le domande che voi andrete a scrivere lì si potranno iscrivere anche persone che non hanno frequentato questo corso la risposta è no se tu ti riferisci al percorso avanzato perché per il percorso avanzato bisogna avere delle competenze specifiche che vengono dimostrate attraverso la partecipazione al corso base ahimè vedo che nessuno è stato in grado di accettare gli inviti che sono stati spediti questo probabilmente per ragioni o di ristrettezza di banda internet o perché siete collegati con dei device che non sono collegati in modo wired cioè con rete fissa o perché voi siete timidi e non volete apparire qui sul nostro schermo e allora a questo punto onde evitare di atterriarvi ulteriormente mi permetto di rispondere all'ultima domanda si possono fare anche i test in differita assolutamente sì tranquillamente se questo riguarda i test delle singole lezioni naturalmente non è possibile fare il test finale in differita perché vengono concessi 30 minuti di tempo trascorsi i quali la sessione esame viene considerata conclusa vedo che non ci sono altre domande vi ringrazio vivamente per aver partecipato a questa nostra lezione e vi do appuntamento alla prossima che noi terremo naturalmente lo sapete già martedì prossimo e comunque ve lo ricordo qui anzi scusate venerdì prossimo 27 marzo 2015 alle ore 17 grazie ancora per la vostra partecipazione a presto a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti